Oltre 400 le presenze ieri sera a Loreto a Prutino, all'Assemblea pubblica per dire no, a gran voce, alla costruzione di un impianto a biometano. L'Assemblea ha visto la presenza, oltre che del Comitato Difendiamo Loreto, raggiunte le 800 adesioni in pochi giorni, del Sindaco Starinieri, di medici, ricercatori universitari, agronomi, che hanno portato la propria riflessione sul tema. La volontà del Comitato, dall'inizio, è quella di difendere il territorio, la genuinità dei prodotti tipici di Loreto a Prutino, cosa che verrebbe meno, come annunciato dallo stesso Comitato, con la realizzazione di questa centrale. Dunque, al termine di questo incontro, che finisce a mezzanotte e mezza, quello che posso dire è che mi sembra, sì, che forse ci sia ancora un punto interrogativo, ma mi sembra che l'amministrazione comunale abbia comunque manifestato la volontà di procedere alla creazione di atti che mettano ben in chiaro la volontà dell'amministrazione comunale, in senso contrario ad un impianto di questo tipo. Il Sindaco, sì, forse a volte parla di rammarico, però forse anche riesce in questo momento a prendere atto della volontà popolare. Come detto presente all'Assemblea, anche il Sindaco di Loreto, che confrontandosi con la platea, ha rimarcato più volte dal palco come, anche nel suo comune, c'è necessità di trovare una soluzione al problema dei rifiuti e che per quanto riguarda la costruzione del biogas, l'ultima parola spetta sempre alla Regione Abruzzo. È stata una bella serata di partecipazione democratica, sono venuti alcuni che hanno apportato il loro contributo, altre figure che sono presenti sempre dappertutto, ma ho visto poche battagliere vincere. Io credo che quello dei rifiuti è un qualcosa che non deve essere sottovalutato. E quindi, ecco, è venuta fuori una volontà per il momento che non si vuole la biodigestione aerobica a Loreto. Io mi auguro, se è vero che credono in quello che hanno detto, che si faccia un po' di studio per aiutare gli altri, senza non compiere l'errore se è così veramente inefficace, non valido e anzi che crei altri problemi. Quindi, ecco, da una parte, diciamo, contento, ma soprattutto deluso perché gli imprenditori agricoli, per quanto riguarda le loro aziende, lo metterebbero. Ma guardi che la Meccanierci ha fatto solamente un lavoro inizialissimo. Come amministrazione sono stati presi le informazioni essenziali, valuterà, ma penso che già ha valutato se su Loreto è percorribile, ma penso di no. Questa sera non c'era e quindi anche un attimo di Meccanierci, di ringazio, di serietà e di rispetto per i cittadini di Loreto.